E siamo live, siamo live, siamo live, scusate, errore tecnico prima, ho sbagliato podcast, questo è il problema di avere, di avere troppi podcast, scusate sto insultando Zap su Telegram perché Zap ha questa cosa che deve toccare le impostazioni del mio computer, postazioni tra l'altro molto precarie, anche a livello emotivo le impostazioni del mio computer sono sempre molto al limite e lui le tocca, infatti ho sbagliato, ho sbagliato tutto, però adesso dovrebbe sentirsi, fatemi sapere se si sente in chat perché non ho ancora visto nessuno che si collega, non si sente, forse, 40 secondi non scrive nessuno, mi viene il dubbio che o siano partite 100 milioni di pubblicità, no no si sente, ok, non è vero, dice Zap che è un cretino, quindi insultiamo Zap, non ascoltate di pensienza, ok, visto che è un che adesso la psicologia è inversa, visto che, intanto non ascolta nessuno, almeno non ascoltate di pensienza, ciao Elena, è la prima puntata per te, non so se, ciao Regina, ciao Chiara, ciao Madonna quanti siete, facciamo gli auguri, anzi facciamo le congratulazioni a Chiara che tra 40 minuti, tempo di finire, che tempo di finire questa live andrà ad annunciare il suo matrimonio, qui annunciato in esclusiva su DipenCrimini, quindi congratulazioni a Chiara, ciao Lucrezia, tu come sempre, buonasera, volevo dire che per me è stato sicuramente Stasi, ci fa piacere Lucrezia che non perdi mai tempo di farci sapere, nel farci sapere che Alberto Stasi ti sta sui maroni, ciao Chiara, ciao Regina, ciao Elena, prima puntata live, immaginavo, non l'avevo mai visto la tua foto, ciao Francesca, sempre presente, che ha già condiviso e ricondiviso le puntate, ciao Sofia, che è sempre, è sempre live con noi, speriamo che i miei soci non arrivino in anticipo, se no aspettano, o se no vi sedete un attimo, ascoltate un attimo la live di DipenCrimini, perché io se ho 7 ore di live in programma non è che posso, non è vero, e niente, volevo fare, dire giusto due cose, Sofia dice che è d'accordo con Lucrezia, ma, appunto, la cosa che ci tenevo a dire è, ciao Clara, la cosa che ci tenevo a dire è, andate a iscrivervi su Telegram, perché se siete iscritti su Telegram sapete già che Sofia e Lucrezia sono assolutamente colpevoliste, e sono anche uno dei motivi per cui ho scelto questo caso, andate a iscrivervi su Telegram, andate a lasciare un like e un commento su Instagram, e lasciateci una recensione su Apple Podcast, anche se non ci ascoltate su Apple Podcast, scaricate l'app e ci lasciate una bella recensione che ci aiuta molto più di tutto il resto, no, cioè, vi dico anche questo, piuttosto che donarci 1 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro, ci lasciate una recensione su Apple Podcast, ok, oh, l'ho detto, sono passati, sono passati 3 minuti, quindi parte la puntata, come sempre l'ultima, dov'è Bebbo, Bebbo non c'è mai, e come sempre, nelle ultime puntate, io ascolto, non è che ne ascolto, leggerò un pochettino meno la chat e mi concentrerò un pochettino di più sulla live per tenere gli ultimi 5-6 minuti invece di, appunto, per rispondere alle vostre domande. Allora, piccola introduzione come sempre, in questa settimana mi sono letto delle motivazioni di una sentenza, non mi ricordo di che grado, forse dell'ultimo grado, quindi ho letto abbastanza del caso Stasi, ho letto alcuni forum, ho visto documentari, ho iniziato a immergermi nel delitto Stasi e più mi immergo in questo delitto, più noto delle somiglianze con altri delitti. Esiste tutta una questione di N.A. che mi fa chiaramente pensare al caso di Yara, esiste tutta una questione movente che mi fa pensare al caso Parolisi, esiste tutta una questione di indizi che sono leggibili fino in un modo o nell'altro che mi fa pensare un po' a tutti i casi, che abbiamo analizzato fino adesso. Io ho già detto nella scorsa puntata che sono colpevolista, ma con una postilla. Cosa vuol dire? Qual è la postilla? Nel senso che io sono convinto, a torto o a ragione, che Alberto Stasi sia colpevole dell'omicidio, ma non sono così sicuro che debba essere in carcere. Voi mi direte, ma com'è possibile? Questo è, diciamo, il filo rosso che vorrei cercare di unire in questa stagione, in questo caso. Perché già domani probabilmente partiremo, quindi nel caso Garlasco cambieremo tutte le gratta in tavola rispetto al solito, perché domani sera probabilmente parleremo della ricostruzione ufficiale e cercheremo di smontarla. Perché la ricostruzione ufficiale, secondo me, ha tutta una serie di problematiche. Problematiche assolutamente note anche agli inquirenti, che però pongono una serie di quesiti a cui bisogna dare una risposta, perché altrimenti si rischia una condanna, come quella che è avvenuta ovviamente nei confronti di Alberto Stasi, abbastanza, come si può dire, non dico debole, però dubbiosa. Allora, siccome Sofia mi aveva detto una volta una cosa, ciao Chiara, benvenuta, una cosa, una volta che mi aveva colpito, non che mi aveva colpito, mi aveva fatto riflettere, cioè ci ho pensato, lei mi aveva detto, sarebbe interessante parlare anche della fine che hanno fatto questi personaggi, cioè un po' dell'iter giudiziario. Allora, in questo momento Alberto Stasi è in prigione, appunto con l'accusa passata in Cassazione, quindi è definitiva la sua condanna per l'uccisione della, come si dice, della fidanzata Chiara Poggi. Ma l'inter giudiziario di Alberto Stasi è un inter giudiziario curioso. Spero che poi Snaporaz, che ripeto conosce benissimo questo caso, nel caso appunto in cui invece dicessi delle castronerie, cosa assolutamente probabile, mi piacerebbe che poi sempre sul gruppo Telegram mi correggesse. Allora, prima di indagare le modalità, gli indizi che l'hanno portato in carcere, brevemente, in cinque minuti, vi spiego un po' la storia dei processi ad Alberto Stasi. Allora, Alberto Stasi inizialmente viene arrestato e subito dopo viene rilasciato. Poi ne parliamo di questa cosa. Ma successivamente si apre tutto, si apre ufficialmente il processo. Vi ricordo che Chiara Poggi muore purtroppo il 13 agosto del 2007. Oh, Snaporaz, bravo, ricordati di dire che Stasi non ha ancora pagato un euro di risarcimento, ok. Stasi non ha pagato, questo non lo sapevo, ma avevo letto che Snaporaz è molto più informato di me su questo caso, quindi mi rifaccio alla sua competenza e alla sua supervisione nel caso, quindi se dico una cagata, dimmelo pure senza problemi perché ci tengo a fare le cose precise. Allora, il primo processo ad Alberto Stasi si conclude il 17 dicembre 2009, quindi due anni e quattro mesi, due anni e tre mesi dopo l'uccisione di Chiara Poggi. Alberto Stasi viene assolto. viene assolto non per non aver commesso il fatto, ma per insufficienza di prove. Assoluzione simile a quella di Amanda e di Raffaele. Mancano le prove. Non è che non è stato lui, ma mancano le prove. A quel punto chiaramente la procura e il legale della famiglia Poggi ricorre in appello. Perché? Perché c'è tutta una guerra sulle perizie. Perizie che in secondo grado non ribaltano il verdetto e infatti il 6 dicembre del 2011 Alberto Stasi viene assolto per la seconda volta, ma il 18 aprile del 2013 la prima sezione della Corte di Cassazione annulla tutte le due le assoluzioni precedenti e quindi si rifà un processo integrale ad Alberto Stasi. Nel nuovo processo, quindi l'anno dopo, il 17 dicembre del 2004, Alberto Stasi viene condannato a 16 anni di reclusione dalla prima Corte d'Assise ed Appello di Milano, ma non gli viene riconosciuta l'aggravante della crudeltà. Questo è uno dei miei appunti mi sono segnato. Il 12 dicembre 2015 la Cassazione conferma la condanna di, sempre a 16 anni di reclusione, perché, anche qua sono quasi sicuro, ma Snapporaz ben attento, lui ha chiesto l'avito abbreviato che quindi ti toglie un terzo della pena, quindi lui aveva preso 24 anni ridotti a 16 perché aveva chiesto l'avito abbreviato. Il 12 dicembre del 2015 la Cassazione conferma la pena. Nel 2017, mi sembra, questo non sono sicuro perché vado a memoria, nel 2017 la difesa di Stasi, su cui adesso dico anche un'altra cosa, chiede una revisione non revisione, poi vi spiego che non gli viene concessa sempre nel 2017 e adesso si parla nel 2021 di una nuova possibile svolta. Questo è un po' l'iter giudiziario di Stasi, cosa ha di interessante? Due cose, innanzitutto una parola su gli avvocati difensori di Alberto Stasi. Al contrario di Bossetti, difeso dall'avvocato Salvagni, su cui in più di un caso io ho avuto qualcosa da ridire sulla difesa di Salvagni e sulle competenze, non sulle competenze, però sulle strategie difensive di Salvagni, Alberto Stasi, che ha una famiglia abbastanza benestante alle spalle, si fa difendere dallo studio Giarda, che è fondato dal papà, ma mi sembra che siano uno o due figli che poi difendono nello specifico Alberto Stasi. Studio Giarda che, dalle mie ricerche non particolarmente approfondite, è uno degli studi più importanti d'Italia, l'avvocato Giarda è uno degli avvocati più importanti italiani, quindi Alberto Stasi ha una difesa assolutamente di ferro, nonostante ciò viene comunque condannato. La cosa interessante, ai miei occhi assolutamente, ops ho schiacciato un tasto, si è aperto tutto un casino incredibile, ok, la cosa interessante a mio avviso, ripeto, da assoluto ignorante in materia giuridica, nel senso che non so nulla in materia giuridica, è che comunque davanti a due assoluzioni, cioè dopo due assoluzioni viene comunque in seguito condannato. Quindi al rifacimento del processo senza delle nuove prove particolarmente forti, ma con delle letture diverse e dei completamenti di alcune perizie, le perizie di cui parleremo poi già verosimilmente domani, la perizia sulla camminata e la perizia sulla camminata, quindi un cambio di, un completamento di una perizia, una diversa visione della perizia, fa sì che si cambi completamente la visione dei giudici su Alberto Stasi. Questo appunto come primo elemento secondo me interessante, quindi comunque due assoluzioni e poi due condanne. Facciamo adesso un passo indietro. Dal 14 agosto del 2007 il caso Garlasco diventa uno dei casi più famosi, tristemente ovviamente, della storia della Repubblica Italiana. Al pari di Cogne, al pari di Iaragambirasio, al pari di Erba, forse anche più di Erba. Diventa un caso mediatico come pochi in precedenza. Come sempre l'opinione pubblica, e di questo ne parlavamo ieri sera su Telegram, l'opinione pubblica si forma un'idea abbastanza precisa sul caso appunto, sulla colpevolezza di Alberto Stasi. E Alberto Stasi ha il volto, gli occhi, l'atteggiamento del colpevole. Fa di tutto, non è che fa di tutto, perché poi effettivamente non è che faccia qualcosa, però non ispira una particolare simpatia. Risulta molto freddo, molto distaccato. Io aggiungerei in un certo senso anche molto nordico, ok, in questa cosa. E di certo non attira le simpatie del pubblico. Cosa che io non sono convinto abbia portato alla sua condanna, cioè nel senso che non è che se fosse stato simpatico al pubblico sarebbe stato assolto, assolutamente. anzi, è stato esattamente il contrario, nel senso che quando la situazione era molto calda è stato assolto. Quando la situazione, non dico che si fosse raffreddata, però era sicuramente meno bollente, è stato condannato. La cosa però secondo me interessante è che comunque è stato uno di quei processi così tanto chiacchierati, così tanto pubblicizzati, così tanto discussi, che un colpevole andava in un certo senso trovato. È stato trovato. Secondo me è stato trovato il colpevole più ovvio, più logico, azzardo anche a dire più giusto. Ma ciò non toglie, secondo me, una virgola dell'interesse di questo caso. Perché? E adesso poi iniziamo da questa puntata, ma vi ripeto, voglio chiacchierare molto del caso Garlasco, perché poi è un caso meno tecnico di altri. Anche le sentenze sono molto spicce, in un certo senso, a tratti confuse, ma molto spicce, perché in realtà si gioca su una serie di interpretazioni. Io vi anticipo già una cosa che magari dirò domani sera, non mi trovo particolarmente d'accordo con alcune deduzioni a cui sono arrivati i giudici, per esempio quella della camminata, o dei pedali della bicicletta. Ma su altre cose invece sì. Così come però esistono tutta una serie di elementi che non riesco a infilare dentro una ricostruzione. Vi faccio un esempio banale. Questa cosa la pensavo proprio ieri e ieri volevo andare live per dire questa cosa. Ieri stavo leggendo varie cose su, come si dice, su Garlasco e ho pensato a pensare all'arma del delitto. In sentenza, cioè nelle due sentenze che ho letto io, si fa pochissimo riferimento all'arma del delitto. Si parla appunto di un oggetto contundente, potrebbe essere un martello, potrebbe essere quello che è. E io pensavo appunto a, come si dice, a come l'avrei chiamato poi durante il podcast, no? Cioè, oltre all'arma del delitto, pensavo di dirvi, facciamo finta che sia un martello. Un altro elemento che mi ha colpito sempre riguardo all'arma del delitto è che non c'è scritto da nessuna parte, e quindi io suppongo che non sia così, perché se no sarebbe scritto da qualche parte, che l'arma del delitto non fosse presente nella casa di Chiara Poggi. Cioè, nella casa della famiglia Poggi. Cioè, sia stata un'arma del delitto che Alberto Stasi, in questo frangente consideriamo Alberto Stasi colpevole, si sia portato da casa. A questo punto noi dobbiamo immaginare, diciamo che Alberto Stasi si porta un martello da casa per uccidere, perché chiaramente se vado a discutere con la mia ragazza e porto un martello, è difficile immaginare che abbia, no, delle intenzioni pacifiche. A questo punto però c'è un problema, cioè c'è una discrasia tra quello che succede la sera prima, che io, sapete che io ho questa passione per le ore prima dei delitti, no, l'abbiamo visto in Meredith, l'abbiamo visto in, quando ho iniziato il caso di, come si dice, il caso di Yara Gambiraso, siamo partiti dal pranzo, il caso di Sabrina Misseri, siamo partiti dalla mattina per spiegare i rapporti tra le due, no? Il caso di Anna Maria Franzoni, siamo partiti dalla notte in cui lei avverte un malore. Perché secondo me, prima di arrivare all'evento omicidario, dobbiamo sempre capire cosa succede prima. Quindi noi partiamo dalla notte prima, perché la notte prima, nulla mi togli dalla testa che la notte prima sia la chiave di volta di questo delitto, soprattutto la chiave di volta per Alberto Stasi, in un senso o nell'altro. Cosa sappiamo per certo della notte prima, della sera prima? Sappiamo che entrambi mangiano a casa di Chiara Poggi una margherita, una pizza. Immaginiamo che ci sia un clima disteso, nulla ci fa immaginare che ci sia un clima teso. La mamma di Chiara parla con Chiara, in più di un'intervista e in più di un interrogatorio dice che non nota nulla di strano in Chiara, che anzi è molto tranquilla. Sappiamo che Alberto Stasi lavora alla tesi da casa di Chiara. Non so, e poi vi spiego perché vi dico questa cosa, su quale computer. Perché in sentenza c'è scritto in modo abbastanza chiaro che il computer di Alberto Stasi non poteva essere, che era un computer portatile, non poteva essere trasportato perché aveva dei gravi problemi di batteria e anche il cavo della batteria era difettoso e quindi sostanzialmente veniva usato come un computer fisso. Non so però se in quel frangente l'abbia portato o piuttosto che no, oppure l'abbia usato magari il computer di Chiara o un altro computer, ma poco importa. Sappiamo che ha lavorato alla tesi. Lui ci descrive cosa ha guardato Chiara mentre lui lavorava alla tesi e ci descrive una serata precedente chiaramente all'omicidio abbastanza tranquilla. Ci dice poi che intorno alla mezzanotte lei lo accompagna fuori alla macchina e ci dà anche un particolare Alberto. Sulla sua macchina c'era uno dei gatti di Chiara. Si danno un bacio per salutarsi e poi lui va verso casa. Sappiamo che corrisponde più o meno al vero perché qualche minuto dopo c'è l'inserimento o toglie l'allarme a casa sua quindi sappiamo che corrisponde più o meno a quello che ci dice. Chiara rimette subito l'allarme ma lo ritoglie un'ora dopo per due minuti mi pare perché l'ipotesi degli inquirenti è che lei faccia entrare i gatti. Cioè cosa voglio dire? Vuol dire che Chiara magari fa andare via, fa uscire Alberto. Lo fa andare a casa, magari si stai ancora sveglia a leggere un libro, guardare un film, comunque a fare qualcosa. E si accorge prima di andare a letto intorno a luna che i gatti sono fuori quindi toglie l'allarme, fa entrare i gatti e rimette l'allarme. Gli orari dell'allarme poi ne parliamo bene quando faremo tutta la cronologia, le varie tempistiche. A questo punto Chiara dorme. Non ci sono, questo è un altro elemento fondamentale, non ci sono da quello che so io e sono abbastanza sicuro di questa cosa, contatti tra Alberto Stasi e Chiara appoggi da quel momento in poi. Cioè i due cellulari non ci sarà mai uno scambio, i due cellulari, i due telefoni di casa, non ci sarà mai uno scambio di informazioni. Ci saranno dei tentativi, anche di questo parleremo poi in seguito bene, immagino settimana prossima, ci sono 5-6 tentativi da parte di Alberto la mattina successiva di chiamare Chiara e anche qui potremmo parlare di, nel caso chiaramente di colpevolezza di Stasi, di telefonate finte simili agli sms di Sabrina Misseri. Ma non ci sono altre, noi non abbiamo prove di, nel fatto che i due si siano parlati più, da quel bacio finale. E allora la mia idea è cosa può essere successo, cioè come è possibile che due fidanzati, giovani, hanno casa, ripeto, hanno entrambi casa libera. La sentenza di primo grado risponde in parte a una mia domanda che avevo chiesto, che avevo anzi posto l'unidì sera. Ho detto come mai non dorme Stasi a casa di Chiara, per esempio, o viceversa Chiara a casa di Stasi. Allora, questa è una domanda che mi ha fatto abbastanza pensare. Sappiamo, con un buon margine di sicurezza, che Stasi e Chiara hanno dormito insieme, in quella settimana, quasi sempre. Tranne quella notte, quella notte, o forse anche la notte prima, se non sbaglio, non hanno dormito insieme. La sentenza, vediamo se trovo il punto, ma non, no, non lo trovo. No, forse sì, vediamo. No, non lo trovo. Oh, no, 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 lo trovo incredibile. La sentenza dice una cosa. Ve la leggo, ok? Vi leggo un paragrafo, proprio neanche, 15 righe secondo me interessanti. Questa è una sentenza, non mi ricordo di che grado, forse è il secondo, ma non è importante, forse è il primo, ma non è importante. È una sentenza credo di assoluzione. Dice, era al riguardo, quindi al riguardo rispetto a un promovente, però parla della sera prima. In particolare, richiamata la ricostruzione degli eventi fornita nel tempo da Alberto Stasi, erano evidenziati alcuni particolari. Le notti nelle quali egli si era trattenuto a casa di Chiara Poggi, quindi noi, vedete, perché ne parla anche prima, no? Parla di notti che lui si intrattiene a casa di Chiara, ma poi dice l'indisposizione della stessa negli ultimi giorni, cioè sappiamo che Chiara negli ultimi giorni aveva qualcosa che non andava. Non sappiamo se fisico o, come si dice, o psicologico-mentale è più verosimile fisico. Questa indisposizione è confermata, scusate, era sottolineata la conferma quindi di questa indisposizione, derivata da alcune dichiarazioni testimoniali, testa e Gabetta, che credo sia una mica di Chiara, e fattuali. Telefonata della madre di Stasi, no, si riferisce a un'altra cosa, scusatemi, però il pezzo che mi interessa è quello che sto per leggere. Era richiamato un messaggio del 31 luglio 2007, quindi due settimane esatte prima della tragedia, scambiato tra Stasi e Chiara Poggi, messaggio che non è riportato in sentenza, quindi ve lo leggerei ma non lo conosco, a conferma delle difficoltà incontrate dalla seconda, quindi da Chiara, nei loro rapporti intimi, dopo il rientro del primo da Londra. Quindi già ci dà, adesso poi ne raccommentiamo, però già ci butta lì qualcosa di peperino, o di peperino wannabe. Era escluso che vi fossero ragioni di litigio tra gli stessi, alla luce della conversazione di Chiara con la madre alle ore 19 del 12 agosto 2007, ed è il messaggio dalla stessa ricevuto, trasmesso da Stasi alle ore 15 e 31 dello stesso giorno. Cioè, il giorno prima, 12 agosto 2007, la madre di Chiara ha una conversazione con Chiara alle 19, in cui non parla assolutamente di problemi con Alberto, ma anzi dice che va tutto bene, ma parla di un'indisposizione fisica, ok? Di qualcosa che non sta bene, c'era un po' di febbre, che cazzo, ne so io cosa c'era, a Chiara Poggi, però non stava tanto bene. E anche questa cosa, quindi, questa cosa ci conferma che non ci fossero dei problemi tra i due, e ce lo conferma anche un altro messaggio, che noi non abbiamo, perché questa sentenza non è come in quella di Misseri, dove c'è tutta l'altra iscrizione dei messaggi, trasmesso da Stasi, quindi che Stasi invia alle 15 e 31 dello stesso giorno. Si rilevava che Stasi il 12 agosto aveva lavorato nel corso del pomeriggio al computer presso la sua abitazione, dove era stato raggiunto la Chiara, quindi Chiara andata, il due giorni prima Chiara era andata, scusatemi, sto facendo confusione, un secondo solo, perché se no mi perdo. Il giorno prima, quindi il 12 agosto, Stasi aveva lavorato al computer il pomeriggio, era stato raggiunto la Chiara a casa, andando poi a casa della stessa, e lì lavorando alla tesi fino a mezzanotte 10, con una sospensione intorno alle 22. Era evidenziato che le indagini per Italia avevano escluso che durante quell'asso temporale Chiara potesse aver visto su portate le distasi immagini di natura pedopornografica. E con questo smetto di leggere la sentenza. Allora, cosa succede la sera precedente? Che sapete, ve l'ho già letto, io sono fissato con la sera precedente, per me la sera precedente deve essere successo qualcosa. Perché? io non riesco a capire come Alberto Stasi si alzi la mattina, intorno alle otto e mezza, nove meno un quarto, si vesta, prenda la bicicletta e vada a, non riesco a capire come a livello di modalità, le modalità sono assolutamente chiare, non capisco la motivazione. Quindi lui va là, con un martello in mano, diciamo che è un martello anche se potrebbe essere un tubo o qualsiasi altra cosa, e spacca la testa alla ragazza, alla sua ragazza, senza un apparente motivo di sorta. Il movente che gli inquirenti hanno provato a trovare nel computer di Alberto Stasi. È un movente, secondo me, abbastanza debole, nel senso, come posso spiegarmi? La prima ipotesi è quella che Alberto Stasi, che era un fan abbastanza, come si può dire, acceso della pornografia e, appunto, le prime ipotesi, a un'analisi del contenuto del suo computer, si pensava che Chiara avesse trovato delle immagini pedopornografiche e che gliela avesse rinfacciata e volesse lasciarlo o avesse reagito male e lui, il giorno dopo, per evitare che si venisse a sapere questa cosa, l'abbia uccisa. Movente, secondo me, non stupido, non banale e assolutamente pertinente, perché immaginiamo anche la situazione. Stasi viene da una famiglia bene, in una zona abbastanza ricca, però piccola, della pianura padana, dove se un ragazzo, che è un po' l'orgoglio della famiglia, si sta per lavorare alla Bocconi, ha davanti comunque una carriera importante, verosimilmente, viene beccato dalla fidanzata a guardare immagini pedopornografiche se si viene a sapere in paese la tua reputazione è finita. Quindi un movente assolutamente perfetto. E come dice il giudice di primo grado, con una serie di elementi così deboli, che oggi non abbiamo analizzato ma che analizzeremo magari domani, con una serie di elementi così deboli, un movente forte, come nel caso invece Misseri e di Sarascazzi, è fondamentale. Cioè, un caso indiziario, cioè non ci sono delle prove certe, ci sono una serie di indizi. Una serie di indizi che faccio fatica a legare, ma che in qualche modo cerco di, appunto, legare per raccontare una storia. Questa storia può essere tenuta insieme, no? Il collante di questa storia, il collante narrativo di questa ricostrazione può essere un movente. Cioè, Alberto Stasi ha delle foto pedopornografiche sul computer. Chiara, magari sta leggendo le e-mail, sai, da controgliare la cronologia, le immassa, Dio. In realtà poi vi spiego cosa ha fatto Chiara. Trova quelle foto, dice, Nando, ma cosa sono queste robe? Scoppia un litigio, lui ci rimugina su. Immaginiamo anche la situazione dice, va a casa, è da solo, ci rimugina su tutta la notte e la mattina dice, questa se mi sputtana, la mia vita è finita. E quindi, movente perfetto. Io sono certo che, quando gli inquirenti hanno immaginato questo movente, hanno detto, è fatta. Perché, ripeto, questo è un movente molto forte, è un movente preciso, è un movente razionale, è un movente logico. Il problema è che noi sappiamo con certezza che Chiara non ha visto quelle immagini pedopornografiche. In prima istanza perché non erano immagini pedopornografiche. Adesso vi spiego meglio. Stasi aveva tantissime cartelle pornografiche, cioè con immagini pornografiche anche di dubbio gusto. Il problema è che non c'era nessuna cartella con delle immagini pedopornografiche. Vi faccio notare una cosa. In Italia non è reato guardare immagini pedopornografiche, è reato conservarle, quindi tenerle su un computer. Infatti, Alberto Stasi per il reato di possesso di materiale pedopornografico è stato assolto. Perché? Lui non aveva nessuna cartella con immagini pedopornografiche, ma aveva dentro dei dati di sistema che i tecnici informatici hanno estrapolato alcune, credo che si chiamano thumbnails, cioè quelle immagini... Voi quando andate su un sito, su un forum, il sistema scarica in automatico tutte le immagini del profilo di altre persone. Se voi navigate sui siti porno, come tutti navigano sui siti porno, scaricate in automatico tantissime immagini, ok? Tra cui lui aveva delle immagini ma che non erano in nessun modo estraibili, se non con delle tecniche informatiche avanzate da nessuno. Quindi noi non abbiamo neanche la certezza... cioè noi abbiamo la certezza che Alberto Stasi abbia navigato tantissimo... ma lui l'ha sempre dichiarato, cioè non è un segreto, su dei siti pornografici. È possibile che alcuni siti contenessero delle immagini pedopornografiche, è molto possibile che alcuni utenti di qualche chat... lui non mi sembra che facesse parte di chat particolari, però è possibile che si abbia visitato dei siti che avevano degli utenti con immagini pedopornografiche e che il sistema le abbia scaricate ma come le scaricano tutti. Ma le immagini pedopornografiche non sono mai state viste sul computer di Alberto Stasi. Quindi questo movente cade subito. Così, un movente che era meraviglioso, nel senso negativo, però nel senso che chiudeva il caso sostanzialmente. Allora quale può essere un movente? Con questo chiudo la puntata. Sappiamo che la sera prima, e quindi torniamo ancora la sera prima, Chiara Poggi scarica le immagini che Alberto Stasi ha scaricato dal cellulare credo, o forse dalla macchina fotografica, a Londra. Quindi dove erano state in vacanza insieme qualche settimana, qualche mese prima. Immagini che effettivamente, come dice Sofia, sono un po' strane. Perché ci sono poche immagini di loro due, ci sono tante immagini di Alberto che filma piedi disconosciute per i zomi che escono dai pantaloni. Sapete, ogni tanto capita che una ragazza sia seduta e si intraveda un po' l'intimo, no? E lui appena vedeva faceva una bella foto. Piedi in metropolitana, piuttosto che altre immagini francamente un po', come si dice, strane. Niente di, come si dice, allucinante. Secondo me è un po' poco per un movente, ve lo dico francamente. abbastanza per una discussione, questo senza dubbio. Da qua a delle minacce di Chiara francamente mi sembra un po' troppo. Vi spiego anche perché. Noi sappiamo che Chiara faceva parte di questo universo, diciamo, pornografico. Passatemi il termine, anzi non passatemelo, non immaginatelo come una cosa negativa di Alberto Stasi. Cioè non era, non faceva niente di particolarmente strano rispetto a tante altre persone. Non c'era davvero niente di... cioè non è un giudizio. Sappiamo che faceva parte di questo universo perché ci sono una serie di video e immagini insieme. Quindi evidentemente lei sapeva che lui aveva la passione comunque di fare qualche filmatino, qualche foterella, qualche... no? Aveva un po' di riguardarselo, no? Di dedicarsi comunque a dei momenti in solitudine dove, diciamo, l'onanismo creava anche una certa, no? Dei momenti in solitaria dove, appunto, dedicarsi a un onanismo contemplativo. Ma... perché? Cioè aveva sta passione. Cioè che cazzo si piaceva farsi le pippe? Cioè adesso io non è che mi sembra di... no? Di... eh... giudicare nessuno. Ma... non vedo in quei... cioè... siccome ci sono anche, mi sembra di aver letto, delle... tante immagini di piedi di Chiara... cioè che... facesse tante foto ai piedi di Chiara... a Stasi gli piacciono i piedi. Che cazzo? A me i piedi fanno schifo, a Stasi piacevano i piedi. Ha filmato i piedi delle sconosciute. Va bene. È grave, è un atto ma anche di mancanza, di rispetto dei piedi delle sconosciute, però... cioè capite quello che voglio dire. Mi sembra un pochettino poco per un litigio tale da giustificare il giorno dopo tornare a casa della propria ragazza con un martello e fracassare la testa. Mi sembra francamente un po' poco. Detto questo... detto questo... potrebbe essere stato il pretesto per innescare un litigio che magari aveva delle radici un po' più profonde. Perché questa è un'altra cosa che mi è venuta in mente. Questa è l'indisposizione di cui parla la sentenza di Chiara nei rapporti intimi ultimamente. Che non è spiegata e non vuol dire un cazzo detto così. Cioè l'indisposizione ai rapporti intimi cosa vuol dire? C'era un problema di salute? No? Aveva un problema... Dai Chiara, in bocca al lupo per tutto. devi scappare, lo so ti tocca, ma so che vorresti stare qua e nel matrimonio poi ci pensiamo. Invece ti tocca andare a sposare, a dire che ti sposerai. No, comunque, congratulazioni. E... Stavo dicendo... Qual è il problema di Chiara? Francesca dice che non gliela dava. Ci sta. Ma qual è il motivo? Ne ha parlato con qualcuno. Se lei, per qualche motivo, non gliela dava più... Passatemi questo gergo un po' così... Allora c'era qualcosa che non andava tra i due. Allora capite che le foto potevano essere davvero soltanto un pretesto. Non... Cioè io non saprei essere più preciso di così. Perché non ho gli elementi per esserlo. Ok? Detto questo, non penso che siano abbastanza per un movente. Ovvero... E poi torneremo sul movente perché secondo me è una delle parti più interessanti di questo caso. Qualcosa deve essere successo quella sera, per forza di cose. Il problema è che singolarmente, no, i singoli fatti non sembrano abbastanza forti. Magari se sommiamo varie cose, allora la situazione cambia. Il problema è che in questo momento hanno... In questo momento che sono passati 13 anni, e quindi verosimilmente per sempre, non abbiamo dati sufficienti per immaginare che... Come si può dire? La tensione tra i due fosse dovuta a qualcun altro. Non so come spiegare. Cioè, mi faccio cercare di parlare il più chiaro possibile. Io ho anche pensato che lei fosse sul punto, e magari gliel'avesse comunicato, di dire guarda Alberto, non ti amo più, voglio, come si dice, voglio... Esatto, come dice Chiara, magari voleva semplicemente lasciarlo. Sì, sì, esatto, anche io ho pensato una cosa del genere. Cioè che gli abbia detto, guarda, questo blocco anche a livello sessuale che ho avuto negli ultimi tempi, negli ultimi periodi, è dovuto a un malessere. Niente, non sono più sicuro ad amarti, piuttosto che non sono... Magari mi piace un altro, non so, ok, è una roba del genere. O magari hai detto questa tua... Passatemi il termine perversione, che poi non era una perversione particolare. Cioè, non è che c'era la passione di inchiappettarsi gli asini. Che dici, cazzo, Alberto, a me sta cosa che abbiamo l'asino in camera che devi inchiappettarti, mi dà fastidio, no? Adesso, passatemi... Cioè, che lì potevo anche comprendere, però è una perversione comunque che nel regno delle perversioni era comunque abbastanza accettabile. Però poteva avergli detto, senta, ma è queste cose che devi filmarmi, filmi sconosciuti e così, inizia a dare un po' sui coglioni. Cioè, cerchiamo di smettere, lui magari... Però, da lì a reagire, prendendo la martellata in testa, di uno comunque sempre molto composto, mi sembra difficile. Poi è vero che, diciamo, quelli più composti sono quelli che poi sfasano. Sì, però, ripeto, siamo sempre un caso abbastanza limite, un caso abbastanza estremo. Mi sembra più facile ipotizzare, anche se, ripeto, è un'ipotesi supportata da nulla, cioè da nessuna prova, che Alberto, scusate, che Chiara, abbia detto qualcosa ad Alberto del tipo, non sono più sicuro ad amarti, non so più se voglio che vada avanti, perché, nonostante tutti la ritenessero, no, la coppietta perfetta, la coppietta felice, evidentemente c'era qualcosa che non andava. Io non so gli inquirenti, in tutto ciò mancano due minuti e mezzo, quindi poi faccio il saluto velocissimo e vi do appuntamento a domani. Non so gli inquirenti su che base hanno stabilito che non riuscisse più a... non riuscivano più ad avere questi... cioè, l'era delle difficoltà in questi rapporti intimi. magari c'è un messaggio, c'è un sms, qualcuno che ha detto qualcosa. Sarebbe interessante, secondo me, leggerlo proprio per avere una visione più completa. Magari semplicemente aveva una malattia, non so, c'aveva la candida, adesso non so, io non sono un esperto di malattie. Cioè, c'aveva qualche problema, diceva, non riusco in questo periodo perché c'è un problema. Però, invece, quell'aspetto lì, cioè quel blocco mentale che aveva lei, poteva essere, no, il sintomo di un malessere più grande che poi potrebbe essere sfociato, appunto, magari nel desiderio di lasciarlo e quindi lui ha reagito male. Perché, obiettivamente, la storia delle foto mi sembra stare un pochettino debole. Ok? Poi, mi fate sapere cosa ne pensate su Telegram. Manca un minuto e mezzo. Io per stasera ho finito. Ovviamente volevo fare una puntata su tutt'altro, ma poi mi sono perso a parlare dei moventi della sera prima. Ma va bene così. Stasera avevo voglia di parlare così a braccio di queste cose. Spero che la live vi sia piaciuta. Ci diamo appuntamento, ovviamente, su Telegram dopo, per commentare la puntata, per commentare il caso, per farvi sapere, chiaramente, se... Come si dice? Se... Se vi è piaciuta la puntata e cosa ne pensate. Regina dice se lei fosse stata innamorata di una donna... Sei d'accordo? No, di una donna no, penso perché non abbiamo prove di scambi di SMS e cose strane con donne. Tu, Snapporaz, sei d'accordo che il movente è debole o perché hai messo la faccina con l'occhiolino, quindi non capisco se sei d'accordo o se mi stai prendendo per il culo. No, nel senso che non capisco se sei serio o no. E soprattutto, Snapporaz, cioè, facci sapere perché io mi collego tutti i giorni volendo sapere... Cioè, spiegaci su Telegram tu cosa ne pensi della vicenda. Almeno... Allora, non voglio sapere se secondo te è colpevole perché secondo me già lo so. Ma scrivi almeno, prima di scriverci la tua ricostruzione che sarà la ricostruzione ufficiale, scrivi, dice, almeno stasera secondo te qual è il movente. Ok? Va bene, ragazzi, è stato un aperitivo bellissimo. Esatto, penso al vero movente. È stato un aperitivo bellissimo, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani, sempre verso quest'ora. Un bacio e un saluto a tutti.